I comuni di Gricignano di Aversa, Succivo, Orta di Atella, Frattaminore, Sant'Arpino e Cesa sono accumunati da sempre da un paesaggio agrario e storico comune rappresentato dall'antica Atella. Per questa ragione si è definita una partnership tra questi sei comuni limitrofi attraverso l'elaborazione di un progetto condiviso che si propone di riprendere alcuni prodotti ed eventi a Valenza unicamente locale e renderli visibili su scala nazionale. Il progetto Atella prevede convegniti nella riga astronomici, esposizioni ed altre iniziative riguardanti la valorizzazione del patrimonio locale, ricco di storia, di tradizioni, di cultura e di bellezze paesaggistiche, oltre ai prodotti tipici della zona, come spiega Cesario Villano, ideatore del progetto Atella. Le associazioni locali, piano piano, con respiro, li portano a risaltare questa cultura. Il progetto Atella, come ho già detto, nasce per questo motivo associare tutte le associazioni e poter portare la cultura tellana molto in alto. Ascoltiamo Michele Autiero, presidente della Prologo di Cesa, e Vincenzo Guida, sindaco di Cesa. Nesta manifestazione facciamo diverse attività, tra cui in modo particolare la visita alle grotte tuface. In realtà sono delle cantine di proprietari all'interno del centro storico di Cesa che ci mettono a disposizione e noi come Prologo valorizziamo questi contenitori di storia, arte e cultura e attraverso un lavoro di volontariato che va avanti da oltre 9 anni cerchiamo di rendere queste cavità non solo in sicurezza per aprirle al pubblico ma anche di cercare di trovarne una nuova destinazione d'uso al di là del discorso di conservazione del vino che la cavità nasce proprio per questo. L'interesse dei turisti è abbastanza rilevante perché tantissime persone vengono per visitare queste bellezze naturali.